Un incontro con i gestori del servizio di trasporto pubblico e dirigenti scolastici nella provincia del Verbano Cusio-Ossola. A chiederlo è il Comitato Difesa Trasporti VCO. Il sudalizio è animato da giovani studenti del territorio, fruitori giornalmente delle corriere di linea che collegano Verbano Cusio e Ossola. Sugli autobus non è garantito il distanziamento, è un controsenso. La scuola si organizza per garantire le lezioni, poi sui pullman siamo tutti vicini, spiega Alessia Di Costa che del Comitato Difesa Trasporti VCO è anche presidente. Le tratte maggiormente affollate, stando ai racconti dei ragazzi, sono quelle che viaggiano tra il Verbano e il Cusio. Va un po' meglio in Ossola. I passeggeri puntano l'indice contro VCO Trasporti. All'inizio sugli autobus c'erano i cartelli che indicavano dove potersi sedere, ora nemmeno quelli. Unica novità è che dalla porta anteriore non si sale e tutti devono indossare la mascherina, aggiunge la rappresentante degli studenti. Vista la situazione, molti ragazzi non hanno rinnovato l'abbonamento, scegliendo di raggiungere la scuola in auto accompagnati dai genitori o in motorino. Il problema aumenterà con l'arrivo del brutto tempo e l'inevitabile aumento dei passeggeri.